per slump e questo primo flagship store rappresenta sicuramente un punto di partenza è un momento importante perché andiamo a rivelare quello che siamo di fatto siamo un'azienda che progetta produce realizza questi oggetti meravigliosi che illuminano e arredano fortemente gli spazi utilizziamo materiali innovativi e delle tecnologie che possono essere applicati solo a questo tipo di forme e a questi tipi di effetti luminosi l'atmosfera che abbiamo voluto creare abbiamo cercato di tradurla con un linguaggio della luce così l'abbiamo chiamato che è il titolo e il concept del nostro ultimo catalogo dove presentiamo l'intera collezione di prodotto abbiamo voluto creare un qualcosa di diverso per far entrare meglio le persone all'interno dello spazio nel momento in cui si entra c'è una fragranza che è stata creata ad hoc da un maestro profumiere mauro malatini che ci ha aiutato a condensare all'interno di un'essenza di un profumo i nostri valori e poi a trasferirli in modo molto silente ai clienti che entrano in questo spazio che effettivamente un po diverso dagli altri perché ha l'opportunità di far fruire le collezioni da diversi punti di vista il piano strada e le vetrine offrono degli spazi che sono sicuramente molto dinamici perché ci sono questi grandissimi ledwall che mandano le immagini della nostra produzione delle nostre sarte della luce che a mano producono ogni oggetto quindi l'eccezionalità dell'artigianato che poi si trasforma in un processo semi industriale il prodotto viene rivelato in maniera molto teatrale da queste quinte che non nascondono ma rivelano poco per poco queste intere collezioni ho voluto inserire all'interno dello spazio un decoro in gesso fatto da artigiani meravigliosi bravissimi che crea un effetto tenda e incuriosisce inevitabilmente perché suggerisce qualcosa che c'è dietro è enfatizzato molto da questi specchi con una finitura titanio che sono all'interno di alcune nicchie di archi a tutto sesto che rappresentano per noi la romanità l'arco per noi è molto importante perché unisce insieme il cerchio e il quadrato che è una simbologia molto cara a noi sicuramente questa simbologia viene ripresa ed enfatizzata da questo specchio fumè che c'è all'interno in effetti è una finitura titanio che riflette le lampade aumenta la percezione dello spazio ma lo fa in una maniera molto elegante perché la lampada specchiata non si rispecchia nel pieno della luminosità ma si abbassa lievemente di intensità per cui l'effetto di profondità è notevole tulip è un tulipano creato a mano dalle nostre sarte della luce si porta questo materiale lenticolare al punto di rammollimento e poi loro senza nessun ausilio di stampi creano con le mani questo fiore che effettivamente poi viene allestito in maniera freestanding quindi in maniera libera o seguendo delle nostre dime creando questi grandi cluster questi grandi vortici di tulipani che hanno questo stelo in ottone che può essere posizionato tra l'altro in tre posizioni diverse creano queste enormi installazioni molto molto magiche che addirittura suggeriscono una folata di vento attraverso i tulipani e il suggerimento è dato dai conduttori che portano la corrente portano all'energia da fiore in fiore che sono dei sottilissimi ma resistentissimi fili di rame questa è una delle installazioni che effettivamente condensa tutta la poesia che noi vogliamo applichiamo quotidianamente in tutti i processi aziendali effettivamente e poi cerchiamo di far rispecchiare in tutti quanti i prodotti